La delegazione di WISP, Comitato Territoriale di Bologna, è stata a Bruxelles per una visita a studio. La visita a studio si è fondamentalmente sviluppata in due giornate, il 24 e il 25 di settembre. La prima giornata è stata fondamentalmente di visita a studio alla Commissione Europea, dove i temi che sono stati trattati sono stati per l'appunto quelli dell'agenda 2021-2027 sulla politica dello sport e quindi su come quali sono le prospettive della politica dello sport a livello europeo, i temi ambientali e ancora i temi legati al sociale, i temi legati alle politiche delle religioni e l'occupazione e la politica sociale, lo sviluppo e la cooperazione. Nella seconda giornata ho svolto più un workshop e quindi un confronto con i nostri referenti in Europa, con i referenti italiani in Europa, i quali ci hanno un po' dato le linee guida su quella che può essere la progettazione europea in ambito sportivo, sociale e in ambito ambientale, che poi sono i temi che tratta fondamentalmente WISP. WISP è un interlocutore molto credibile che riesce a portare a termine dei buoni progetti, sono stati ricordati proprio dalla Commissione Europea, è stato ricordato proprio dai membri della Commissione Europea il progetto Come Together già finanziato dall'Unione Europea e sono disposti a accettare e a credere in quelle che sono le potenzialità sia del territoriale che del nazionale.